Allora, io sono venuto qua con delle grandi aspettative e sono state soddisfatte. Sono venuto qua perché volevo imparare, volevo crescere in questo settore e ci sto riuscendo. Sono persone validissime che mi stanno dando davvero qualcosa di importante. Mi porto via a quattro strategie che sicuramente attuerò e sicuramente approfondirò. Però è un bel punto di partenza, un grande punto di partenza. Questo corso è per chiunque, per chi vuole dare una svolta alla propria vita, per chi crede in se stesso, per chi crede che ci sia un futuro diverso, un futuro migliore, perché è possibile per tutti.